Salutatore eccovi con Ryan Paris con Montsue Rullo Gerati Esagerati e con Pier Vigi Cerin Cerin allora noi vi diamo buon Ferragosto a tutti direttamente da Montsue Gerati Esagerati ad Aprilia in via Via De Lauri 96 vi aspettiamo ecco da sempre non mancate ricordiamo Gerati Esagerati granite spettacolari di yogurt e di tutto crepe numeri meravigliosi yogurt con frutta fresca e comunque sia vediamo quello che possiamo fare che vi è cliente e noi siamo i degustatori siamo ciao buon Ferragosto ciao auguri